Qui vediamo il modulo di Aiko, il nuovo modulo che ha vinto il premio qui a InterSolar. È un modulo pensato per avere un'elevata efficienza per il mercato residenziale. Come vediamo 460 Watt di potenza nominale, l'efficienza leader nel mercato, il miglior prodotto che abbiamo sul mercato ad oggi, 23.6. È un pannello che Aiko realizza con celle Back Contact, è un nostro brevetto. È un prodotto estremamente interessante dal punto di vista tecnologico, ma vediamo anche dal punto di vista estetico. È un prodotto che essendo una cella Back Contact non ha ovviamente bass bar sul fronte, tutto è sul retro e l'integrazione con il frame e con il background è perfetta. Il prodotto è a base di celle Back Contact N-Type e come vediamo anche le caratteristiche tecniche sono molto interessanti. Un coefficiente di temperatura di meno 0.29% per grado centigrato, un degrado il primo anno dell'1% ma molto interessante è anche il degrado dal secondo anno al trentesimo che è di massimo 0.35%. Il prodotto è coperto da una garanzia di 15 anni per quanto riguarda il prodotto in sé e 30 anni per la garanzia per quanto riguarda la produttività. L'approccio di Aiko è quello di fornire un sistema completo per le applicazioni domestiche. Vediamo infatti a fianco del pannello lo storage con l'inverteribido per cui Aiko che è molto conosciuto sul mercato come produttore di celle fotovoltaiche e adesso sono sicuro, sono certo, lo diventerà molto anche come produttore di moduli mette a disposizione del proprio pubblico e dei propri partner anche sistemi di montaggio e inverter fotovoltaici che sono diciamo normali, semplici oppure ibridi con anche la combinazione di pacchi e batterie. Grazie.